L'abbraccio l'abbiamo preso fra Marchisio e Giovinco. Ti posso dire a questo proposito, una settimana fa Marchisio ha detto di te, deve soltanto aspettare perché fra poco arriverà la sua occasione e sono sicuro che non falirà. L'abbraccio fra voi dimostra molto. Sì, ci lega una grande amicizia da quando eravamo alle giovanili. Lo ringrazio per le parole, per tutti quelli che hanno avuto fiducia in me, i miei compagni, la società, il mister, tutti. Partiamo dalla Juventus e poi veniamo a te. Quanto conta la vittoria di oggi? Forse più di tre punti per come è venuta e per i risultati dell'avversaria? Sapevamo che era un campo difficile, avevamo tanti assenti, quindi era importante riuscire a vincere. Non ci siamo riusciti, sono riuscito a fare gol, mi sono sbloccato, quindi sono molto contento. Ci è venuto in mente una cosa, vedendo la tua punizione di oggi, nell'anno di Deschamps ti mettevi dietro Del Piero e quando Del Piero calciava tu stavi a guardare e poi lo imitavi dietro. Ti sei ricordato una delle sue punizioni oggi? Per fortuna che abbiamo uno come lui per poter imparare il più possibile. Adesso mi è capitato questo calcio di punizione, quindi sono molto contento di giocare con grossi campioni. Guardi la stagione con Spirito di Iberzo, ti è servito anche un po' nel morale questo gol? Lo guardavo già prima, al di là del gol, poi è normale quando riesci a fare gol e tutto ti viene un po' più semplice. Mi sono sbloccato, ci sono riuscito. Grazie Giovinco.